Continua con grande successo la quindicesima stagione teatrale di Cittanova organizzata dall'Associazione Calomea col patrocinio dell'amministrazione comunale della Presidenza del Consiglio regionale e della città metropolitana di Reggio Calabria. Il prossimo venerdì alle 21 al Teatro Gentile andranno in scena Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show con la Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeio. Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano in uno show di cui sono stati interpreti e autori accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta da un grande maestro jazzista. Ne scaturisce una scoppiettante carrelate di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni e interazioni con il pubblico. Tra le varie gag ricordiamo l'incontro tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger in un esilerante siparietto di vita domestica, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e ancora quello più recente di Martin e Frank Sinatra che ha sbancato la puntata natalizia di tale quale show su Rai 1. In quasi due ore di spettacolo Tullio Solenghi e Massimo Lopez da vecchie volpe del palcoscenico si offrono alla platea con empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile marchio di fabbrica.